Cos'è che devi fare Marco? Cos'è che devi fare? Metti giù la zona? Metti giù la zona oggi? Ah ma proprio nel bosco profondo? Sì sì, perché qui mi ricorda molto di là, hai capito? Da dove si parte? Parti da qui, parti da là, no dove parti? Non farmi camminare 200 chilometri, allora partenza è qua? No la partenza è qua, se vuoi fa la che di qua? Tu la stai mettendo quindi? No io voglio che la metti giù, stiamo qua dentro, qua dentro, qua dentro, allora partiamo da qua, si scende, mettine giù un paio, metti giù la partenza da qua, dai, fai qualcosa, partiamo, scendiamo. Mettine uno qua, così li facciamo subito incazzare sotto qua, discesa, discesa andiamo via diritti prima che, testa, metti ne uno lì, e ne metti un paio, un altro qua, che così girano dentro un po' più stretti, stretto, non fare il furbo eh, giri giù da lì quindi è già fino a che mai larga. Fai verso di qui, di lì è troppo facile, falla andare su di qui. Allora stringila, stringila subito, guarda, una zona fatta col marco, incredibile, quindi scendiamo, scendete da lì e passi fuori da qua, va bene, dai, dai, passi su, che di qua vi voglio vedere. Ah, di qui si va su, che è un piacere. Sì eh, va bene, quindi la incrociamo, per forza, perché la incroci? Che non mi piace mai incrociare. Beh, puoi salire anche di là, anche lì sotto si può salire. Ecco meglio, non mi piace incrociare, dove sta salendo Roberto? Sì, dai, guarda, guarda quella faccia brutta là, quello là è mio fratello. Lo vedo, lo vedo, l'ho già visto, l'ho già visto una volta, non mi ricordo dove. Sì, dai, allora, così. Ed è l'89. Mizzica, come una metusa, 88 metusa. Mizzica, uguale. Quante ne hai, uno o due? Una, una. Però c'è due nipotini. No, non ne ho. Oh, non continua ad allungare. Dove vai da qua? Scusami, arrivi da qua, ma falla a piedi, dove vai da qua? Qua, da su, di qui. Non puoi andare su di lì perché c'è gli alberi. Oh, guarda, questi qui si rompono via. È troppo in contropendenza, non riesci a farla. Questa è più in contropendenza di quel pezzo là. Eh, ma di là in discesa, di qua. No, in salita. Un po' più. È in salita quel pezzo là? No, ma quella non la facciamo, facciamola qua, eh. Perché lui la incrociava e non si incrocia la zona. No, quando scendi giù di là. Ah, che fai il pezzetto. C'è un pezzetto che... Ma quanto tengono quelle gomme? Eh? Dipende dal pilota. Ah, ok. Ah, ok. No, non riesci, Marco. Fai così, allora. Falla scendere e scendiamoci dal legnetto. Metti, bravo, mettine uno lì un po' più largo. Così, mettilo lì, bravo. Mettilo all'arancio. Ok. Ha un significato o no? No, no, no. Ah, non che uno a destra e uno a sinistra. No, se vuoi puoi fare sì. Puoi fare rossa e gialla. No, Giuliano, vieni giù. Quindi, riscendi da qua. Mettine un altro qua, Marco. Questo tiene o è stato messo... No, tiene, tiene. Sono salito io a 50 ore. Allora, qua riscendiamo. E se non vuoi far andare su più nessuno, ma da qua non sali. Da lì. Dai, mettigli da dentro, va bene. E vuoi su di lì? Va bene. Allora, scendi libero fino a là in fondo. No, non metterne tanti. Eh, va bene, va bene, dai. Quindi libera fino in fondo e salire da là. No, non è finita. Sali. Sali. E scendete da lì, stai entrando, quindi devi scendere da lì. Tira via questo qua. Che magari... O scendete... No, scendete più avanti, perché sennò vi ammazzate da qua. Se fai la curvetta così ti ammazzi. Scendi lì avanti, mettine giù due. A quelle due piante lì fai la porta. Una e due, le due più in alto. Se fai la porta... Bravo. Quindi arrivi su da là. Sì, ma non in sci. E di lì escono, non nella fine della zona? Escono qua. Però l'ha messo giù mare come il suo solito. Allora, se tu arrivi da lì, Carlo Cudiga, arrivi qua. Ne li faccio scendere da qua. Scendono. E li facciamo uscire da qui. Me l'abbiamo fatta un po' troppo... Difficile. Con il marco non ti stupisci mai. È già andato. Tanto la farà a modo suo come sempre. E l'ha nascosto già là nella valle. È già fiammato. Vedi, la farà al contrario. Fa tutto come vuole lui. Cioè... Fa come vuole lui. Comunque mi ha fatto provare solo la tensione della moto di un altro in piano. Ma quello quello non succede in niente. Giù dietro la pianta. Giù. Piano, eh. Esci. Piano. Piano. Mi ha affacciato lui. Sì.